Nel momento in cui il costo dell'oro era aumentato in modo importante, i clienti degli oro a fiarettini avevano la problematica che avevano necessità di avere il prodotto finito, ma l'oro a fiarettino aveva la difficoltà a dotarsi della materia prima che era molto costosa. Allora Oro Italia Trading ha fatto da tramite questo, per cui non era che il compratore mandasse qui le barre, ma chiedeva a Oro Italia Trading di fornire l'oro per la lavorazione per conto suo. E quindi l'oro a fiarettino non aveva questo sborso enorme. Senza Oro Italia Trading questo non sarebbe potuto avvenire. Opera da 15 anni ha stretto contatto con le aziende or a fiarettine e non solo, è l'unico banco metalli di proprietà di una banca a livello italiano. Oro Italia Trading è in vendita inserita nel bando insieme alle altre società del gruppo dell'Etruria ed è previsto che possa essere ceduta al miglior offerente anche separatamente. Un aspetto da non sottovalutare per l'economia retina, visto che Oro Italia Trading dispone di servizi mirati e forniscono oro e altri metalli preziosi in conto lavorazione alle aziende orafe. È un percorso che può destare preoccupazioni per le aziende aretine? Beh assolutamente no. Innanzitutto io vedo complicata una vendita separata, poi le manifestazioni di interesse sono le più varie, ma io la vedo complicata perché si perderebbe una sinergia. La banca e il gruppo hanno come fine quello di servire al meglio un settore come quello dell'oro che è determinante per il territorio dove lavora. Oro Italia Trading negli ultimi tre anni ha avuto un fatturato medio di 430 milioni di euro di cui il 70% rappresentato proprio da operazioni in oro e il restante in argento, quest'ultimo metallo che non può essere trattato per legge da una singola banca. Ma qualunque compratore venga, ci auguriamo della qualità massima possibile, qualunque compratore avrà qui un'eccellenza che non trova altrove, non trova altrove. E può essere un modo per trasferire questa eccellenza su mercati che oggi non possiamo immaginare.